In corso di svolgimento in questi giorni a Torre Pellice, fino a sabato 9 luglio, il progetto Una scuola per la democrazia, promosso dalla Fondazione Centro Culturale Valdese in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, il Centro Studi Confronti e la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, un ciclo di incontri e laboratori volti a promuovere la cultura della partecipazione e della responsabilità pubblica che affonda le radici nella storia di una minoranza religiosa che grazie alla sua predicazione e ai suoi istituti educativi e sociali ha contribuito fortemente ad affermare i valori democratici del pluralismo e della laicità. L'idea è creare un piccolo spazio di igiene mentale in cui si sentano, si facciano, si discutano dei ragionamenti rispetto alla situazione geopolitica che oggi stiamo vivendo, ma anche alle prospettive e al piccolo contributo che possiamo dare noi, perché la tradizione protestante è stata fuoriera di valori della modernità, per esempio la tolleranza, per esempio l'idea di libertà, la non-gerarchia nel modo di gestire la propria istituzione. La situazione geopolitica internazionale ci porta in dimensioni sovranazionali, questa trasformazione capitalistica basata sull'informatica, basata sui sistemi bancari, basata sulla trasparenza dei poteri, lo implica per chi vuole capire come va il mondo, delle nuove categorie di comprensione, sia sul piano collettivo che sul piano soggettivo. La premessa di questa scuola è che le democrazie sono come delle piante che devono essere nutrite, devono essere concimate, bisogna guardarle con attenzione in tutta la loro crescita, perché? Perché possono ammalarsi? E talvolta la malattia di una democrazia non è immediatamente percepita, certamente quando c'è una proposta dittatoriale, autoritaria che minaccia la democrazia, come è accaduto per esempio il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, questo era molto evidente, ma talvolta la democrazia si ammala in modo più sottile, nel senso che al suo interno incominciano l'emerge delle spinte che in vario modo finiscono per determinare una sofferenza della pianta e perfino questa pianta può morire. Io credo che sia stato importante che il Centro Culturale Valdese con la rivista Confronti, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, il Collegio e altri soggetti insieme abbiano deciso di dare vita a una scuola, il termine scuola è intenzionale, perché è davvero un luogo nel quale si apprende, si discute, ci si confronta con un metodo che è un metodo anche molto rigoroso e quindi è anche un servizio che nasce e che continuerà nel tempo, perché questa scuola non chiude domenica quando i corsi formalmente finiscono, ma intende continuare la sua attività di ricerca con dei laboratori che speriamo di realizzare nelle scuole, da qui un progetto che parte sicuramente da un luogo emblematico come Torre Pellice, ma che ha una vocazione nazionale. Nella giornata di mercoledì 6 luglio, il tema al centro del dibattito è stato il rapporto tra democrazia e populismo, con la partecipazione della professoressa della Kebot University di Roma, Pamela Harris e del politologo Luca Jaillet. Dunque, abbiamo appena sentito dello sviluppo del linguaggio del popolismo, soprattutto nell'esperienza europea in cui il popolismo è visto molto nettamente come una perversione della democrazia, una maledizione della democrazia. Ora io andrò a parlare sul popolismo negli Stati Uniti, che c'è una storia ben diversa, nel senso che la nostra Costituzione non è, si viene inizio molto democratico e la mobilitazione, la valorizzazione del popolo, anche in chiave populista, ha anche servito a rendere la nostra politica, la nostra Costituzione più democratica, nel senso di essere più partecipativa. soltanto che, chiaramente, anche fra noi, la linea tra un popolismo espansivo e quello che abbiamo ora è molto importante. Solo da 5-10 anni negli Stati Uniti riusciamo a inquadrare il termine popolismo come un fenomeno profondamente antidemocratico, che ci ha portato a una situazione in cui la nostra democrazia è gravamente minacciata e quello che vedremo oggi non è soltanto di interesse folcloristico, ma è una minaccia di violenza che sta proprio non solo alla porta, ma l'abbiamo già visto. Il giorno precedente è stato invece affrontato il tema del sovranismo, con un appuntamento che ha visto protagonisti i docenti Alberto De Bernardi dell'Università di Bologna e Pierpaolo Portinaro dell'Università di Torino. Con il sovranismo si intende riproporre un discorso nazionalista, fatto però da un'ottica che accentua molto la presenza popolare, cioè il fatto che gli interessi nazionali sono visti a partire da quelli che si presumono essere gli interessi popolari. Il sovranismo, fra l'altro, è un termine cognato recentemente che ha avuto una grande diffusione, a partire da un concetto classico che è quello di sovranità. Tutti gli stati sono sovrani, quindi esercitano un potere, devono tutelare gli interessi della nazione, devono tutelare gli interessi del popolo. Perché si è incominciato a insistere su questo ismo particolare? Perché si è percepita una dissociazione, una separazione tra popolo ed elite, che sono quei gruppi che la sovranità concretamente la gestiscono, sovranità economica, sovranità politica. E questo è effettivamente un problema reale che la globalizzazione ha accentuato, ha reso manifesto. La percezione di questa distanza, di questo allontanamento tra popolo ed elite, e quindi questa virulenza della critica nei confronti dell'elite ha generato questa richiesta di sovranità, cioè il fatto che il popolo possa ritornare ad essere la voce dominante all'interno di un processo che chiamandosi democratico vuole attribuire il kratos, cioè il potere, al demos, cioè al popolo. Grazie.